Ciao a tutti, sono Alessandro Costo di Campo di scia Italia, vi presento il nuovo scia Rescars Valor di Swapson STI, uno sci di 13 metri di raggio, 165 cm di lunghezza, una costruzione con una pitana alla punta coda, un doppio sidewall che dà un grosso controllo e sicurezza di cattopiede, oltre ad avere delle gommine particolari in punta coda che attupiscono completamente la infiltrazione della frequenza, tutto lo scia risulta molto preciso, molto performante, ottimo per sciare la mattina sulle nevi dure, ma anche divertente quando la neve diventa un po' più morbida perché comunque c'ha un po' di rock sulla punta che aiuta la garizzabilità dello scia.